ciao amici benvenuti in questo nuovissimo video oggi finalmente dopo penso sei settimane 42 giorni forse non mi ricordo dunque dalla sosta natalizia che finalmente ritorna il nostro lucera che dopo la vittoria contro il capuzzo per 2 a 0 oggi sfida il fesca bari ultime in classifica con due punti però comunque nessuna partita in questo campionato è scontata però finalmente oggi si ritorna a giocare dopo il rinvio nella di poche settimane fa niente oggi appunto come sempre altavarti da toste dando lo spinazzola sta paneggiando a zero a zero contro il capuzzo quindi dobbiamo per forza vincere per avvicinarci alla zona la zona playoff e quindi niente adesso direzione stadio è sempre forza lucera ciao ragazzi grazie Alza la mano, scelgo, forse da te Fui Zè Bello Vai No Ui, no, Matò, per coso Matò Questa è caprice No Ragazzi è finito il primo tempo, 2-1 Lucera, stiamo dominando Il Fesca Barri ha creato un'occasione, un gol, qui ha sperato anche il pareggio Però dobbiamo trovare subito il terzo gol perché ecco, bisogna chiuderla Vai, secondo tempo è iniziato, la dobbiamo chiudere ragazzi, subito Oh Donna santa Oh Ui madò La presa, la presa No Sì Finita, due a uno